Buonasera, questa settimana intensiva di Schubertiade che naturalmente è chiaramente stata pensata in competizione col festival di Sanremo, infatti avevamo una mezza idea di trasmettere la finale in diretta stasera ma l'abbiamo lasciato perdere, immagino che sia un pubblico diverso questo per fortuna. Non sarebbe male l'idea, adesso si parlava di un televoto dei leader, cominciare a capire quali di questi leader che eseguiamo sono quelli che rimangono più in mente, quali sono i più belli secondo voi, questo sarebbe stato bello farlo ma in realtà la graduatoria dei leader è un po' complessa perché è un gusto insondabile, ci stiamo accorgendo in questi concerti di quanto sia illusoria questa idea che alcuni pezzi da un certo punto di vista è naturale perché succede, cioè che alcuni pezzi entrano in un repertorio e altri no, e questo è sempre difficile anche per chi fa questo lavoro capire come mai succede questo, come mai alcuni pezzi diventano i favoriti degli interpreti o del pubblico, più delle volte per il pubblico è una questione di abitudine a sentire pezzi che vengono eseguiti più volte e quindi dove anche c'è un confronto continuo con i grandi interpreti del passato, mentre invece la logica direbbe di cercare pezzi che non hanno questo continuo confronto con interpretazioni che a volte sono state insuperate ma che poi questo insuperato è come il record dello sport, c'è sempre un insuperato che poi a un certo punto viene superato questo magari dura a lungo l'idea che un pezzo non possa essere eseguito meglio di come è stato eseguito da certi grandi e poi di colpo invece spunta qualcuno che lo esegue, non si sa se si può dire meglio, ma in un modo ancora più memorabile ancora più duraturo nella memoria delle persone, naturalmente tutto questo oggi deve fare i conti con queste tecnologie nuove quindi a sua volta è tutto più difficile, è difficile che un'interpretazione rimanga così nella memoria delle persone come simbolo del modo migliore in cui si possa eseguire un pezzo, proprio perché la facilità con cui queste interpretazioni vengono reperite su questi nuovi mezzi, soprattutto nel mezzo informatico, nel cosiddetto YouTube, che è croce delizia di tutti perché permette di trovare tutto, ma contemporaneamente di non capire mai se una cosa, io dico sempre che è come un'enoteca dove viene distribuito il vino da 300 euro a bottiglia e quello da 5, è tutto gratis e quindi piano piano a furia di mi piace il fegato parte e il gusto anche, perché è un po' difficile capire a quel punto perché un vino è meglio di un altro vino. Contemporaneamente però c'è anche l'aspetto positivo di dire trovo un'interpretazione che ormai era introvabile o per la quale un tempo avrei dovuto spendere magari 40 euro per un CD e quindi come al solito è difficile per chi è stato abituato a comprare i dischi, questo gesto dell'acquisto del disco che era veramente un gesto, anche quello simbolico, tornare a casa con questo disco così grande, con questa copertina così bella e sapere che per mesi o per anni quella sarebbe stata l'interpretazione migliore e invece adesso sappiamo che quell'interpretazione la possiamo sentire premendo un tasto e non sappiamo bene se... subito ci viene inventata, ma vediamo quest'altra e quindi tutto questo ha un po' a che vedere con quello che dicevo all'inizio, cioè perché scegliere un pezzo piuttosto che un altro, oggi è tutto un po' più vago perché il pezzo che io definisco famoso non lo è più e invece quello che magari per qualche motivo difficile da stabilire di origine informatica o elettronica quel lead viene cliccato più volte e quindi diventa a sua volta più famoso. Detto tutto questo, oggi, in questa settimana così intensiva dove abbiamo avuto questi due concerti, il tema, che è un tema non necessariamente direttamente proporzionale all'idea generale del concerto ma che dà un piccolo aiuto a mettere assieme i leader che via via, che noi andiamo avanti con questa esecuzione complessiva dei leader di Schubert, la scelta diventa sempre un po' più ardua, la percentuale di pezzi noti, appunto secondo il discorso che abbiamo fatto all'inizio è sempre minore, oggi si parla di questo innamorato in tutte le forme. Naturalmente è sempre una poesia di Goethe a dare l'idea del titolo perché, come abbiamo detto anche la volta scorsa e comunque, come è abbastanza chiaro, in questo novero di poeti che Schubert mette in musica e che, nonostante quello che spesso si dice, sono poeti tutti da un certo livello in su, lo standard è molto alto della poesia che lui mette in musica. Naturalmente questo vuol dire che nella media ci può essere anche una poesia più modesta ma che solitamente sono poesie che lui sceglie con molta cura, che lui sceglie facendo a sua volta una selezione tra tutte le altre che lui legge durante la sua vita così breve e così intensa. Quindi è raro che la poesia scelta da Schubert sia proprio scadente. A tutt'al più può non essere una poesia eccellente come invece sono la maggior parte. La maggior parte vuol dire soprattutto le poesie di Schiller, di Goethe, poi quelle di Heine, alcune di Rückert. Questi sono i poeti che sono rimasti nella storia della letteratura a prescindere dal fatto che Schubert li avesse musicati. Poi ce ne sono alcuni come Wilhelm Müller che invece è rimasto nella storia della letteratura proprio perché Schubert l'ha messo in musica e questo non fa onore del tutto, non rende onore del tutto come dovrebbe a quella figura di poeta perché lui fu un grandissimo poeta che aveva una forte influenza sui giovani poeti dell'epoca e oltretutto era un appassionato viaggiatore che aveva raccolto e tradotto poesie anche italiane e che morì molto giovane, quasi contemporaneo di Schubert, nato credo un anno prima o addirittura nello stesso anno e morì un anno dopo senza che vi fu tra i due mai nessun tipo di incontro e neanche proprio la conoscenza, la coscienza che l'altro fosse lì e stesse facendo cose così belle sulle poesie che lui aveva scritto. Ma chiaramente quando si viene al nome di Goethe c'è un salto di qualità incredibile. Lo stesso Schiller sembra un poeta dilettante rispetto a quello che fa Goethe e quindi in questo caso quest'idea dell'innamorato in tutte le forme, questa poesia così leggera che concluderà il concerto di stasera, quest'idea che io vorrei essere, vorrei avere mille forme diverse, vorrei essere un pesce, vorrei essere un altro tipo di animale, vorrei essere una pianta, vorrei essere per poter fare in modo che tu ti innamorassi di me, ma alla fine poi tu mi devi prendere per quello che io sono. Questa sembra una morale da Baci Perugina detta così, mentre invece come Goethe riesce a dire queste cose che sono del buonsenso comune con bellissime parole e quello probabilmente che fa sì che poi questi leader su sue poesie siano così belli. Ma quest'idea della multiformità, cioè dell'amore che prende forme diverse, forme addirittura anche biologiche diverse, che è una cosa che si ricollega a sua volta ai multiformi talenti di Geni, forse potremmo dire di Goethe, che fu, come è noto, fu oltre che poeta, fu un uomo politico di spessore, fu un direttore di teatro, fu uno scienziato e non così dilettante come si intende oggi, perché oggi lo scienziato dilettante è veramente un personaggio che fa paura, perché è proprio quello che diffonde notizie false e tendenziose proprio sulla rete, magari fa sì che la gente si curi con queste notizie fasulle. Quindi, mentre all'epoca il dilettante, il scienziato dilettante, era un uomo che avviaggiava, cercava reperti, reperti con cui rimettere in discussione delle tesi evoluzionistiche, quindi è stato molto importante Goethe, anche per la stessa teoria di Darwin Goethe è stato molto importante. Poi è stato un uomo che ha messo in discussione la teoria dei colori di Newton, quindi ha fatto studi anche di fisica applicata ai colori, alla luce. Questo suo aspetto scientifico così forte, che lui relegava in momenti liberi di questa sua attività prodigiosa, perché è vero che Schubert, abbiamo sempre detto, ha questa produzione enorme, concentrata in questi dieci anni, dodici, che tra l'altro si svolgono tutti all'interno, una piccolissima parte della vita di Goethe, se noi vediamo una tavola cronologica è fatta da questa piccola vita di Schubert, lontano da tutti, soprattutto lontano da lui, ma Goethe nella sua lunghissima vita, che è quasi tre volte, più di tre volte, no, quasi tre volte quella di Schubert, proporzionalmente ha prodotto forse ancora di più, perché Goethe soltanto, se pensiamo che quasi mille lettere, lettere solo le ha scritte al compositore Zelter, quindi l'epistolario tra lui e Zelter consta di quasi mille lettere, ed è un'inezia rispetto alle migliaia, decine di migliaia di lettere che lui ha scritto, anche a non voler considerare tutto il resto che ha fatto, cioè le tragedie, i drammi, il Faust, le migliaia di poesie, e oltre a questa sua attività così importante di uomo di cultura, e quasi anche uomo, in un certo senso uomo politico, nel senso migliore del termine, ecco, è difficile mettere allo senso piano, chiamare col nome politico quello che faceva lui, considerando l'immagine che abbiamo oggi noi della politica. In Goethe questo aspetto così di approfondimento scientifico era proprio il motivo per cui lui aveva una basilare diffidenza verso la musica, lui non poteva applicare alla musica questa sorta di giustificazione oggettiva delle cose, che lui invece tentava di applicare alle altre arti, all'architettura, alla pittura, alla letteratura naturalmente. Con la musica lui sentiva che gli sfuggiva il momento principale, cioè gli sfuggiva, voleva giustificare in termini ad esempio fisici, cosa che naturalmente possiamo fare, l'acustica spiega una parte della musica, ma spiega soltanto proprio l'evento fisico della musica, e lui voleva cercare di applicare questa parte di spiegazione oggettiva alla parte anche estetica, e questo non gli riusciva bene, intanto perché per far questo non basta essere un conoscitore dell'aspetto fisico, ma devi essere un conoscitore dell'aspetto, tra virgolette, metafisico della musica, o quantomeno della musica in quanto musica, il che vuol dire, sembra una tautologia, ma vuol dire molto, cioè vuol dire, noi sappiamo che ci sono persone, ci sono state persone anche grandissimi personaggi della storia della cultura, della letteratura, dell'arte o della politica, del sapere in generale che sono stati sordi alla musica, cioè che non riescono proprio a capire minimamente la bellezza della musica. Ora in Goethe non era proprio questo che succedeva, lui cercava, e per questo si contornava di questi consiglieri musicali, che spesso erano bravi compositori, e che spesso sono rimasti bravi compositori proprio per questo, cioè non hanno fatto il salto di qualità, proprio per questa figura così imponente, così anche opprimente di questo poeta. loro dovevano cercare di spiegare a lui la musica in termini fisici, in termini acustici, e poi lui doveva cercare di trarne una teoria, e questa teoria dei suoni, che lui scrisse, è una teoria dei colori, ma la teoria dei suoni rimase un abbozzo. Si proprio diffidenza la parola giusta, diffidenza, e questo anche l'ha portato in certi casi, anche se anche questo è molto difficile da stabilire, ad avere e a dare dei giudizi, che poi non si sono dimostrati proprio giusti, soprattutto su Beethoven, soprattutto sui compositori che poi si sono rimasti nella storia, mentre lui tendeva ad avere più indulgenza, verso compositori che comunque hanno avuto una loro porzione di genio, anche di genio riflesso, perché questi compositori che lui amava molto, soprattutto questi Zelter, Reichardt, avevano questo privilegio addirittura di comporre i loro leader su poesie di Goethe dal manoscritto. Lui mandava una lettera con una poesia e immediatamente questa poesia diventava musica. E questo è un privilegio che fa diventare belli anche questi leader, perché si sente questa continuità nella creazione, mentre invece i leader che scrive Goethe e Schubert, o che poi scriverà Wolf, o che scriverà Brahms sulle poesie di Goethe, hanno questa frattura del tempo che è passato dal momento in cui furono scritte le poesie al momento in cui fu scritta la musica. Ora in Schubert non c'è proprio questa frattura temporale, perché Schubert fu a tutti gli effetti un contemporaneo di Goethe, anzi abbiamo detto che nacque quasi 50 anni dopo e morì alcuni anni prima, quindi è incredibile pensare a questo. C'è la vicenda abbastanza nota del fatto che Schubert mandò un pacchetto con dei leader, tra cui capolavori assoluti come Lerl König, a Goethe, e che Goethe non rispose mai. E questa è stata una cosa su cui si è molto dibattuto, e da cui si sono tratte probabilmente delle false conclusioni, perché probabilmente Goethe semplicemente non rispose a questo pacchetto, non lo aprì neanche, non lo vide neanche, perché Goethe riceveva una quantità di posta ogni giorno impressionante, per cui lui decideva, o il suo segretario decideva, cosa si doveva aprire e cosa non era neanche degno di essere aperto. Per lui il nome Schubert chiaramente a lui non diceva nulla, e quindi probabilmente quel giorno in cui gli arrivò un pacchetto, tra l'altro con i quartetti di Mendelssohn, che invece era un suo pupillo, perché era l'allievo prediletto del suo amico Zelter, e quindi quel giorno lui decisi di aprire il pacchetto con i quartetti di Mendelssohn, e non con i leader di Schubert, ma probabilmente non sarebbe cambiato nulla nella storia. Anzi, a volte si pensa che questa autonomia che è rimasta a Schubert forse è una parte di frustrazione, sicuramente l'ha avuta, di non ricevere risposta da quello che per lui era più di un mito vivente, era proprio, per Schubert Goethe, incarnava tutto quello che lui ha cercato di fare durante tutta la sua vita con la musica, quindi probabilmente sarà stata cosciente la delusione di non ricevere una risposta con un autografo di Goethe, ma contemporaneamente proprio questo ha salvaguardato in un certo senso la sua autonomia di compositore. Lui non aveva bisogno di far sì che Goethe fosse contento del suo modo di comporre le sue poesie, e quindi non avrebbe mai dovuto scusarsi con Goethe perché aveva osato mettere un accento sbagliato, mentre invece questi altri compositori ci sono le lettere dove noi sentiamo, leggiamo, mi dispiace aver dovuto cambiare l'accento di questa parola, mi dispiace aver dovuto ripetere questa parola due volte, cose che veramente oggi fanno sorridere, e allora Goethe ogni tanto rispondeva con severità, ma come si è potuto permettere Mozart di comporre questa mia poesia in questo modo, non ha capito nulla, questa è l'unica volta in cui Mozart aveva messo in musica una sua poesia. Goethe disse, Mozart non ha capito assolutamente come si doveva comporre questa poesia, questo fu il suo giudizio. Non parliamo di Beethoven, Beethoven lui lo sentiva come una minaccia incombente perché in Beethoven sentiva la musica che prendeva il sopravvento non solo sulle parole in quanto tale, ma anche proprio sulle idee in quanto tale, quindi per lui Beethoven rappresentava un odio-amore anche la persona stessa di Beethoven, lui suscitava delle reazioni non positive. In generale Goethe fu molto severo con i suoi contemporanei, soprattutto con i giovani contemporanei, tendeva a vedere la generazione, ad esempio dei romantici, dei poeti romantici, come una generazione malata, e lo scrisse spesso, in un certo senso aveva anche una parte di ragione lui in questo. E quindi appunto il giovane Heine, ad esempio, che aveva avuto un grande successo con la pubblicazione del libro dei leader, per lui era un giovane arrogante che aveva osato andarlo a trovare e alla sua domanda, signor Heine, lei di cosa si sta occupando in questo momento? Heine rispose, in questo momento io sto scrivendo un Faust. Lui osò dire a Goethe che tutta la vita stava ancora lavorando al suo Faust da quasi 60 anni e che era noto nel mondo per il suo Faust. Questo giovane che arriva e dice in questo momento lavora un Faust. Pare, anzi certo, che Goethe gli abbia risposto, lei signor Heine credo che oggi abbia qualcos'altro da fare. Gli rispose così. E Heine fu congedato così freddamente. Quindi Schubert non ha bisogno di questo beneplacido da parte di Goethe e continua a creare quasi allo stesso livello di Goethe. Anche se lui non lo sa, crede di non poterlo fare minimamente e tutta la contemporaneità non crede assolutamente che lui possa essere quello che un giorno farà ricordare queste poesie a tutti i giovani coreani, giapponesi, turchi, russi, italiani che a volte si trovano che in tutta la loro vita l'unica occasione che avranno di dire le parole di una poesia di Goethe è grazie alla musica di Schubert. Questo è qualcosa che noi spesso ci dimentichiamo. Magari tutti avranno studiato a scuola la poesia di Goethe, magari tutti l'avranno studiata in traduzione, ma l'idea di dire queste parole anche non conoscendo la lingua e dirle proprio quelle parole quindi continuare a pronunciare queste parole spesso succede solo a chi ha la fortuna di possedere una voce e di poter continuare a cantare queste poesie. E questo non potevano immaginarselo né Goethe né Schubert che un giorno queste civiltà così lontane di cui Goethe invece aveva intuito l'importanza nella vicenda dell'umanità. Goethe aveva scritto il divano occidentale-orientale. Goethe aveva capito che l'unico modo di far convivere e di portare avanti la cultura mondiale era di far convivere l'elemento orientale con quello occidentale. Quindi lui si era studiato queste poesie persiane, anche le poesie cinesi aveva studiato. Quindi lui aveva capito questa cosa ma la vera unione nel suo nome tra occidente e oriente spesso è avvenuta grazie ai leader soprattutto quelli di Schubert e poi anche a quelli di altri compositori tra cui Hugo Wolf perché sono i due grandi compositori di leader che hanno osato più comporre la poesia di Goethe. Altre addirittura si sono quasi rifiutati di comporla in quanto poesia troppo grande di per sé questa era ad esempio l'opinione di Brahms diceva io non ho nulla da aggiungere a Goethe quindi era un'idea sua che anche questa la possiamo accettare proprio perché era stato Brahms a dirlo che poi ha scritto alcuni tra i grandi capolavori su poesie di Goethe ma pochi 7-8 in tutto contro i 50 leader di Schubert e gli altri tanti leader di Wolf su poesie di Goethe. Un aspetto quindi del concetto di stasera è proprio questa conclusione con queste parole così belle che voi sentirete recitate nei video che stasera stasera mi piace dirlo lo vedete anche sul sul programma stasera i video o comunque il supporto video il supporto di immagini su cui sentirete la lettura dei testi tradotti è particolarmente di alto livello perché l'unità della musica all'unità della musica di Schubert e alla multiformità invece delle poesie che Schubert aveva messo in musica si riflette l'unitarietà del fotografo che c'ha gentilmente concesso l'utilizzo di sue immagini bellissime che è Giancarlo Ceraudo che tra l'altro questa settimana c'è un bellissimo servizio sull'Espresso dedicato all'Uruguay con sue foto e suoi testi e queste poesie tutte di ambientazione centroamericana e sudamericana non hanno naturalmente un rapporto diretto con il tema delle poesie perché quello sarebbe un po' cheap sarebbe un po' volgare farlo ma creano una unità creano un simbolo che si che si sovrappone a volte o si unisce al simbolo musicale che è proprio il procedimento poi da cui nasce il lead il lead come abbiamo detto altre volte non è la mera descrizione del testo o la rappresentazione sonora del testo perché per far questo non c'è bisogno di un grande compositore ma è proprio un simbolo parallelo un simbolo musicale parallelo al simbolo poetico cioè alla parola e quindi a volte queste due forme di linguaggio che poi chiaramente devono avere un punto in comune all'origine perché tutte e due nascono come forma di espressione di sentimenti e di emozioni e di idee quindi il punto primo da cui si diramano la musica e la poesia devono essere per forza devono coincidere per forza e quindi piano piano questi simboli un po' si allontanano un po' la musica diventa simbolo sonoro puro un po' si riuniscono e lì è proprio il momento in cui si riuniscono al meglio ma non certo con musica che descrive che descrive il significato o l'ambientazione o l'immagine dettata dalle parole perché quello sarebbe semplicemente un di più lì avrebbe ragione Brahms non c'è bisogno di aggiungere nulla a queste poesie questa idea del linguaggio musicale che prende forma in autonomia implica naturalmente che il linguaggio debba essere riconoscibile proprio come il nostro linguaggio se non ci accordiamo sul significato di una parola e spesso non lo facciamo ma quando lo facciamo possiamo veramente parlare di linguaggio condiviso anche se poi ci possono essere sfumature di significato nella musica è un po' più difficile che tutti si sia d'accordo sul fatto che un certo accordo scusate il bisticcio rappresenti un'idea un accordo maggiore un accordo dissonante un accordo per far questo è necessario che questa prassi di usare quell'accordo o quella scala o quella tonalità sempre con un determinato significato si ripeta nel tempo quindi è più facile che nell'ambito della produzione di un singolo autore vi sia qualcosa di riconoscibile cioè che a un certo punto noi sentiamo che è una cosa che si ripete guarda qui questo accordo l'ho già sentito in un altro pezzo di Schubert allora chissà che Schubert quando usa questo accordo non voglia dirci qualcosa di specifico naturalmente questo diventa sempre più difficile man mano quando invece allarghiamo lo sguardo alla complessità dei compositori perché intanto perché i compositori sono persone molto individualiste quindi tendono a prendere qualcosa dagli altri compositori ma poi a trasformarlo in qualcosa di nuovo un po' perché il materiale musicale cambia col cambiare del tempo come tutti i materiali artistici ma non vuol dire questo che sempre sia qualcosa di nuovo a volte cambia proprio proprio come cambia il motore di una macchina di Formula 1 perché c'è una ricerca lo fa cambiare e automaticamente cambierà il modo di affrontare che ne so una curva o un sorpasso ma solo a volte c'è un grande pilota che ha un modo nuovo di guidare non sempre basta che il nuovo pilota abbia una nuova macchina ecco tanto per usare queste metafore sportive come si fa spesso in televisione oggi lo possiamo fare proprio perché siamo qui in competizione col festival c'è un modo però per i compositori di usare un linguaggio condiviso e questo spesso è abbastanza semplice semplicemente vuol dire io prendo un frammento di una musica di un altro compositore e la uso quella che si chiama citazione la citazione può essere letterale oppure può essere una citazione nascosta adesso io mi fanno sentire un paio di frasi musicali che però non sono di Schubert ad esempio questa oppure oppure questo oppure questo per tre volte noi abbiamo sentito lo stesso tema praticamente queste sono tre tre opere di Robert Schumann Schumann utilizza questo tema queste opere che vi ho fatto sentire che sono un lead che si chiama Widmung Dedica poi l'arabesca pianistica e il poeta parla dalle scene infantili ora questo fatto che Schumann abbia usato questo tema tre volte nello stesso modo con gli stessi accordi la stessa armonia più o meno e anche in altre opere naturalmente ha destato l'attenzione degli studiosi anche di chi lo sente dice ma questo mi ricorda qualcosa e per lungo tempo si è cercato di capire perché Schumann utilizzasse questo tema e per lungo tempo non lo si è capito perché per capirlo bisogna possedere una cultura musicale particolarmente vasta e anche un'idea non solo la cultura vasta perché quella che gli studiosi di musica ce l'hanno ma ci vuole quella particolare attitudine verso la musica come un'idea quasi di decifrare la musica alla fine un musicologo inglese che si chiamava Eric Sams che tra le altre cose nella sua giovinezza ma proprio giovinezza cioè nel 16-17 anni era stato crittografo dell'esercito inglese nel gruppo di lavoro quello il famoso gruppo di lavoro di Bletchley Park dove dove era stata decrittata il codice enigma dei tedeschi questo ragazzo che poi è diventato un importante musicologo e studioso di Shakespeare nella sua maturità ed è diventato l'autore dei testi sul lead forse più importanti che sono stati mai scritti lui applicò poi questa sua abilità di crittografo lui raccontava di questa esperienza di lui il ragazzo che era andato a fare l'intervista con l'ufficiale inglese lui si era presentato dice io la mia prima idea era di entrare nell'aviazione ma poi uno mi aveva preso da parte mi aveva detto guarda dice che la media di sopravvivenza di chi entra nell'aviazione dice è di sei settimane a quell'epoca perché c'era la guerra in atto allora lui cambiò e andò a fare un altro bussò a un'altra porta e in questa intervista gli chiesero lei sa mi deve dire se sa fare tre cose se sa giocare a scacchi se sa leggere una partitura e se fa bene le parole crociate e lui rispose sì a tutte e tre le cose e quindi fu preso in questo gruppo di lavoro segretissimo tra l'altro solo negli anni 80 si è potuto dire che questo gruppo di persone che erano moltissime aveva partecipato a questo lavoro così importante perché era stata una storia una storia anche con vicende non del tutto piacevoli sapute oggi cioè ad esempio si è saputo che il famoso bombardamento di Coventry la distruzione totale quindi con morte di migliaia di persone era una cosa nota agli inglesi ma non potevano fare a meno non potevano avvisare che sarebbe successo perché sarebbe stato un modo per far capire che avevano decrittato questo codice quindi in prospettiva loro hanno preferito hanno preferito sacrificare le persone e fu per quello che quel giorno Churchill andò invece su un'altra torre di Londra e si disse guarda che coraggio perché poteva essere stato lì il bombardamento invece lui sapeva benissimo che sarebbe stato in un altro posto questa è una parentesi questo musicologo diventato musicologo lui applicò allo studio del LID quindi stavolta prima era stato un decifrare contro i tedeschi poi invece diventò un decifrare a favore del studio dell'arte tedesca questa è anche una cosa bella perché implicava il cambio proprio del percorso della storia lui fece uno studio molto molto approfondito sulle crittografie in musica quindi su tutti i vari codici nascosti nelle partiture musicali tra questi lui identificò senza alcuna difficoltà la fonte di questa frase di Schumann ed è questo LID di Schubert e ne parliamo oggi perché sarà eseguito oggi da Rosenband il nastro di rose dove si dice io la guardai guardai lei e da quel momento la mia vita dipese per sempre dalla sua quindi questa frase questa frase quindi in tante varie tonalità è questo verso quindi qui in un certo senso Schumann non cita solo la musica ma cita la musica in quanto musica per un verso che dice delle parole che lui voleva dire in quel momento a una persona che chiaramente era la sua futura sposa Clara quindi questo questo ora noi quello che potremmo chiederci è questo codice c'è questa citazione questa citazione Schumann va a scegliere un lead molto poco noto tra quelli di Schubert tanto poco noto che forse addirittura era tra quelli che lui stesso aveva ritrovato che ancora forse non era stato neanche pubblicato quindi lui probabilmente voleva nascondere questo codice in modo che rimanesse un codice solo per le sue orecchie semmai per quelle di Clara che era una grande musicista il fatto che poi noi lo scopriamo e lo sappiamo in un certo senso ci spiega delle cose in un certo senso ci toglie questo senso di enigma che deve per forza di cose racchiudere l'idea stessa di codice cifrato perché il codice cifrato funziona solo per chi dei due ha la chiave per aprirlo e di solito è una persona ce l'ha a fonte a monte e una persona invece è quello che legge il codice sono gli unici due che possiedono la chiave per leggerlo quindi in un certo senso nello stesso lead tra l'altro dove Schumann cita questa frase questa dedica quindi abbiamo detto questo alla fine di questo lead noi sentiamo questo questo è chiaramente la citazione a sua volta che Schumann fa dell'Ave Maria di Schubert e questo ci dice intanto che probabilmente a quell'epoca anche l'Ave Maria era un lead poco noto non aveva sicuramente questa fama mondiale data soprattutto dal cattivo utilizzo di questo lead e quindi probabilmente anche questo che Schumann riesce a dissimulare tramite l'uso di un'armonia molto più complicata molto più cromatica piena di e nasconde quasi noi sentiamo più quello che succede sotto che non il tema stesso quindi in un certo senso Schumann in questo lead ci fa capire la fonte della mia così come Schubert aveva fatto ne abbiamo parlato l'altra volta aveva fatto in un suo lead aveva fatto capire la fonte della mia ispirazione è Mozart chi ti ha insegnato a scrivere leader così bene e lui cita una melodia di Mozart per rispondere in un certo senso Schumann fa lo stesso con Schubert in un lead che poi è diventato uno tra i suoi leader più eseguiti e più famosi mette questa continua citazione nascosta della musica di Schubert quindi è una dedica questo pezzo diventa una dedica non solo a Clara non solo alla forma del lead in quanto tale ma anche al suo maestro a quello che lui a quel punto considerava il maestro il vero maestro colui che gli aveva insegnato non solo a scrivere bene leader perché questo è già un passo successivo nella vita di Schumann ma quello che gli aveva proprio insegnato che la musica può essere un linguaggio che dice delle cose ben precise non proprio il contrario dell'idea tra virgolette romantica della musica come astrazione totale che dice qualcosa che la parola non può dire in Schumann invece spesso è proprio quello la musica può dire in un altro modo dei concetti delle parole ben precise solo che bisogna avere questa mano così felice che ci permetta di citare di nascondere proprio come fa il grande poeta o il grande romanziere che riesce a mettere in una vicenda magari anche comune dei continui messaggi nascosti che sono quelli che poi rendono grande il testo che lui ha scritto ad esempio uno degli esempi più evidenti di questo è proprio Proust quindi questa forma di romanzo così esteso dove sono nascosti migliaia di simboli simboli che poi col tempo sono stati magari spiegati nelle note a piedi pagina delle nuove edizioni ma che probabilmente invece nell'intenzione dello scrittore dovevano rimanere in un certo senso nascoste ma percepibili questo difficile punto di raccordo tra quello che bisogna sapere e quello che non bisogna sapere probabilmente il lead così come lo intende Schubert è proprio questo questo ci spiega questo miracolo per cui un ragazzino di 16 anni nel 1816 17 anni nel 1814 prende in mano la più grande opera forse che la Germania aveva creata fino a quel momento che era il Fausto di Goethe prende in mano il monologo di Margherita che era uno dei momenti più alti del teatro tedesco fino a quel momento tanto alti che si allontano talmente dal teatro che non vengono mai eseguiti in teatro perché sono messi dentro un dramma così ampio che non può essere eseguito così lungo e questo ragazzino prende in mano questo libro prende in mano questo monologo e crea uno dei più grandi leader della storia senza che nessuno gli avesse spiegato nulla del personaggio di Margherita così come poi ce l'hanno spiegato i grandi teorici e critici della letteratura perché per noi oggi è abbastanza facile andare a fondo di quel personaggio ma questo ragazzino invece non aveva nessuno che glielo spiegava ma lui l'aveva semplicemente capito l'aveva ancora più che capito lui l'aveva letto e aveva fatto quello che tutti noi dovremmo poter fare ma che è una nostra ambizione sacrosante ed è giusto che sia tale ma spesso cozza contro i nostri personali limiti cioè di arrivare a capire le cose senza bisogno né di doverle spiegare né di doverle sapere con precisione ma di vedere cosa c'è dentro un'opera d'arte e allora in parte questo talento che è quasi inspiegabile per noi questo talento questo genio spiega questo aspetto multiforme dei leader di Schubert perché se la comprensione della poesia fosse qualcosa data dalla conoscenza del retroscena della poesia noi avremmo avuto centinaia di grandi compositori come Schubert se semplicemente capire bene la poesia fosse una base per comporre un buon lead avremmo avuto centinaia di Schubert invece ne abbiamo avuto uno solo forse ne abbiamo avuti tre o quattro in tutta la storia probabilmente neanche mai a quel livello quindi evidentemente quello non basta Schubert era il più vicino ai poeti che ha musicato e quindi in un certo senso quello che aveva meno armi per capirli ma è quello che li ha musicati meglio quindi questo spiega spiega in parte spiega in parte se non altro il tema del concerto di stasera cioè la multiformità la multiformità dell'amore è un po' la stessa cosa perché anche anche all'amore tra le persone cioè in tutte le sue caratteristiche si potrebbe applicare questa stessa equazione cioè il comprendere e il percepire l'altra persona senza bisogno di parole o senza bisogno di doversi spiegare quindi in un certo senso il lead così come ce lo presenta Schubert è una forma un atto d'amore della poesia verso la musica il che implica soprattutto il fatto che tutte e due le arti mantengono la loro autonomia mantengono la loro vita e che in certi momenti magici si incontrino in una forma d'arte terza e diversa e diversa dal resto quindi questa sera che c'è questo sposalizio tra più arti cioè tra la musica tra la poesia tra l'arte dell'interpretazione musicale nel canto l'arte dell'interpretazione musicale del pianoforte l'arte della fotografia e nessuna di queste nessuna di queste arti deve andare troppo a offuscare l'altra dovrebbe essere proprio un momento un momento ideale un momento un po' stellare perché questa forma del lead entra ancora di più nel nostro animo e ci renda felici almeno per un breve lasso di tempo e quindi vi auguro un buon ascolto questa sera grazie a tutti grazie a tutti